Buonasera a tutti, è giusto fare un plauso, più di un plauso all'Italia di tennis che è riuscito a qualche oretta fa dopo quasi 50 anni, 47 con precisione, da Santiago del Cile, Vittoria del Cile, da parte di Parate Pietrangeli, Barazzutti e mi sembra Bertolucci, sino ad oggi, 47 anni dopo, giù di lì, a Malaga, grazie a Sinner, Arnaldi, Volandri e Berettini, credo soprattutto lo punto di diamante Sinner che in semifinale aveva battuto, perso se non sbaglio un altro incontro non sono sbagli del grande slam con Diokovic, sulla gara battuta è riuscito a vincere una gara incredibile in semifinale con la Serbia grazie al suo incontro, oggi questi due singoli e l'Italia è riuscita, ripeto, a battere l'Australia e a finire il secondo titolo, quindi enorme soddisfazione un po' per tutti e facciamo i complimenti a questi giovani ragazzi intraprendenti, soprattutto alla punto di diamante Sinner, un artista esistenzialista buona serata a tutti